Una cooperazione che nasce dal mare per unire i paesi della vecchia e della nuova Europa. Passa da Bari, dal terminal crociere del porto, il futuro marittimo europeo, grazie a un confronto tra tutte le strutture portuali e di gestione delle acque dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo orientale e sul Mar Nero. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati i risultati del progetto Ecoport 8, appena concluso e nell'ambito del quale Antenna Sud ha realizzato un documentario, Sailing to Southeast Europe, che ha messo in luce tutte le politiche di cooperazione e di integrazione delle regole messe in atto dai porti di Italia, Montenegro, Albania, Grecia, Romania e Bulgaria. Un'esperienza, quella di Ecoport 8, che ha dato vita a un nuovo progetto coordinato dal programma sud-est Europa dell'Unione Europea. TEN Ecoport, che come Ecoport 8 vedrà come lead partner il Politecnico di Bari, coinvolgerà i porti pugliesi di Bari e Brindisi e, oltre ai precedenti partner, vedrà anche il porto di Dubrovnik, principale scalo della Croazia, neoentrata nella UE, rappresentata al convegno dal vicepresidente del Parlamento Europeo Gianni Pittella. Un'opportunità di mettere delle basi comuni per la pianificazione di politiche ambientali condivise per salvare un elemento naturale, unico e imprescindibile per l'Europa come il mare mediterraneo.